SCATMAN'S WORLD bella raga ciao a tutti raccomandone veriziano siamo sul gta 5 ragazzi e si gode e si gode alla grande vai cassa c'avemo una macchina c'avemo questa fioi mamma me sto registrando subito dopo il primo il primo video quindi sono ancora esaltato ragazzi bella mamma mia da fermo devo premere e adesso vediamo in città vai adesso l'unica roba per l'audio per sicurezza è una cosa però l'audio per i copyright questo può essere un problema impostazioni ok audio musica per il momento ragazzi so che è una merda però per il momento togliamo la musica e facciamo così aspetta un commentino per avere dei consigli se te ne erano la musica per i copyright vai andiamo ragazzi la grafica ragazzi è godibilissima che sei console caramente io perché sono io che sono appassionato di pc caro che vedo la differenza però è gta quindi va bene tutto la grafica ragazzi la grafica ragazzi devo inventare ragazzi ciao 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 buono buono oh oh guardate per familiarizzare col gioco ragazzi quindi un po' di pazienza yeah yeah vai come vai come facciamo già un ciro della città vai il palo in pieno stile gondolaro ragazzi stile gondolaro di GTA ammattiamo questo quanto mi gavo mamma mia ti guarda qua il fratello il frame rate mi sembra buono ricordo sempre ragazzi che se un giocatore di pc è chiaro che le console sono un po' scecchi sono contento quindi qui secondo me sono 360 la versione pc ragazzi la versione pc ragazzi le luci anche le luci vai vai comandone vai comandone vai comandone vai ragazzi questo è il comandone questo è il comandone ragazzi un pazzo the crazy bella la mia macchina è bella da vedere ragazzi questo è il comandone questo è il comandone ragazzi c'è bravissimo a guidare semina gli sbirri seminiamo come sbagliare tutorial su come sbagliare strada molto bene vai raga scampiamo ci sono già un po' di zoccole qua vai comandone vai comandone oh c'ho oh c'ho il pullman scampa come scampa ma porca di quella vacca molto bene che guida ragazzi una guida proprio di classe bella bella fatta questa macchina mi gasa però finché li sbirri ok premi LR per attivare l'abilità speciale di Franklin eccola qua ah buono ok godo godimento puro va va fanno duro shit shit verrà che semona riporta l'auto al concessionario si è un po' distrutta però va bene insomma peccato adesso per la radio ragazzi voglio capire perché magari con i copyright possono operarmi i coglioni sono tutte canzoncine famose ande tutto bene ok però la cosa bella è che la versione non pc che sono tranquillo non ho fram strutture di coglioni graficamente sarà insomma meno bello rispetto al pc però che sboccio sono più tranquillo fioi posso godermi a pieno il gioco perché io sono un maliaco della grafica infatti sul rom sono incazzato nero fioi perché non posso buttarmi fuori un gioco così aspetta che qualcosa sbaglia strada ah ragazzi sono famoso per sbagliare strada ok ok buono e siamo arrivati nel scenario di simeor qui franklin può settare delle missioni godo molto bene ciao bello ciao bello cosa stai chiamando un n***o? no no non mi chiamare nessuno un n***o ma che f***o? mi chiedo n word non è questo non è buono non lo dico non lo dico sei f***o e dovresti mantenere bene perché questo manco qui è un business internazionale un multiculturalista non potrei capire la storia quindi ragazzi voglio anche a voi dare la possibilità di capire la storia di sto gioco ha 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 credo che sei vero Lamar hai un ribadito ho capito l'argento non è un problema l'argento non è un problema questo è il miglior punto perché è questo quando è vero e mi chiede e mi chiede tutto questo il pieno questo è lo sanus ok ogni personaggio giocabile è un suo veicolo unico sali sulla tua auto qual è questa? beh raggiungi la casa di Franklin ok che sembra che macchinoni senza un sarà fintura che è un problema è una cosa di usurpare questa situazione è un problema come si può usurpare insomma è un problema la sua pausa con la mia moglie Sfume, qui siamo a casa Ancora sbagliato, ma sono un coion però eh Sinta ufficiale ragazzi, il comandolo deve sbagliare strada Vai, torna sull'auto Ah no perchè è là il garage, coion Ok ragazzi, i primi vaneggi comandieri L'orientamento veneziano è una cosa bella Ok, sono i veicoli parcheggiandoli nel garage Molto bene Ok Ragazzi siamo in pieno stile GTA Parrucchiere disponibile Ok Ok Faccio una zuccolona Ok, mia mamma stava chisea La solita di Franky poi si ripristinata con i kit medici mangiando cibo Ok, vabbè, solite robe Guardami sul letto per salvare la partita e far avanzare il tempo Ok Molto ordinata la camera di Franklin, me la godo Ok Ok Ok, è arrivato, salviamo la partita Missione completata Ok Medale d'argento, ho preso Ok Ok Salviamo Fate una bella dormita Salva Salva Attenzione, ho saluto di progressi Ok, molto bene Oh Dormita senza Tori però non è la stessa cosa Ok Ma allora per il cazzo il troione Ok Allora Ragazzi Tramonto Il primo tramonto su GTA 5 Allora Vediamo un attimo la mappa Buono mappa Voglio andare dal parrucchiere Vai Andiamo dal parrucchiere Saremo che una macchina adesso Anzi che c'è la va a bici Vai Occio occio Merda Cazzo 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 Che cazzo Che cazzo Oh no Ok 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 Ok, ho già una missione Mettiamo la bici E andiamo in bici, fioi E andiamo in bicicletta E andiamo in bicicletta Vai, vai Vincenzone Nibali, fioi Vai che c'è il tram Superiamo il tram Vai di tram Vai, vai, vai Pro Cycling Manager GTF Eh, non potevano cominciare con la bicicletta, ragazzi Come su San Andreas Che bello, ragazzi Mamma mia Veramente è una goduria Una goduria Oggi una coda, ragazzi Una coda Una coda La GameStop, ragazzi Meno male che c'è la crisi, fioi C'è Dai Comendone Volevo cominciare con la bicicletta Era proprio il mio pallino Vai, mattiamo la gente Anche in bici Tutto bene Il ragazzo è distrutto Vespucci Boulevard Vesucci Boulevard Vesucci Boulevard Vesucci Boulevard Dai Comendone, dai Tirala, tirala Devo arrivare dal parrucchiere così Non metterai saliti No, è distrutto Ma no Oddio, vabbè, scontavo capito Cominciamo a smaccare i coglioni a po' di gente Vai C'è il furgone peggiore del mondo L'ho preso io Ma porca puttana Cominciamo bene Ho preso tipo la macchina più lenta del gioco Molto bene Ho preso la polizia che mi spacca i marroni Che mi frantuma il cazzo Molto bene Ma porca mignota, vai Nocio Devo liberarmi della pula Ho bisogno di una macchina più veloce Camignota E' già cominciamo Fioi Perca zoccola Vai 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 puttanone Vai puttanone Ciao Ciao E' già la polizia che rompe i marroni Cerchiamo di liberarci di sta cazzo di roba E poi andiamo dal parrucchiere Dai corri comandone Corri forest Temi a Los Santos Buono Ancora due stelle Che palle ho sta polizia Ho già la messa sul cazzo La prima Dopo 10 minuti di gameplay Dai Andiamo per le stradine qua Così vediamo un po' anche la città Raga Perché sono curioso di questa città Mi sembra immensa Oh Finalmente E ora andiamo qua dal parrucchiere Mappa Ok Vai Andiamo dal parrucchiere Andiamo a girarmi per forza Vai Madonna del signor Ragazzi ho comprato il gioco da 2-3 ore E quindi sono ancora un po' sballottato Ho bisogno di un po' di tempo Per capirlo bene Tutto quanto E poi si parte A bomba Si parte veramente a bomba Questo GTA La luna romantica Ok Senza la radio però mi secca un po' Porca mignote Devo capire di copyright Vedo anche un po' di video in giro Per capire se è un problema Mamma mia Io sono il pirata della strada Fioi Sono il pirata della strada Vai come no Infatti se vomitate nel vedere i miei video Posso capire perché è una guida proprio da veneziano Ragazzi Sono il classico veneziano No Stop Non vedo l'ora di fare il merdone Fioi Non vedo l'ora di fare il merdone Cazzo Magari evitiamo però di distruggere la macchina così Abilità alla guida 1 Fioi Comunque ho detto che ogni macchina ha il suo stile Si sente veramente ogni macchina ha il suo stile di guida Ecco Però il mio ha un solo stile Stile baneggio Ma puttana merda Non è che forse arriviamo Arriviamo dal parrucchiere Forse che affermo Tutto il pasta col tono Abbiamo pensato Ciao pasta col tono Ok Vai dal parrucchiere Vai dal parrucchiere Ok Dopo che c'avevo una bella macchina Ok Perfetto Oh ho già una zoccolona Che non lo so l'ifers Speriamo che ci andava a buon mercato Ciao Vai Bello E' già sexy Racconciature Quanti schemi abbiamo? Vabbè qualcosa che abbiamo Allora tripla riga Posso vederla prima Allora Ce ne spariamo una figa Vado Vado Mi perderò mille euro a customizzare tutto Io sono così Fei macchine, capelli, vestiti Quale ci spariamo cazzo? Quale? Dai cominciamo con questa Fei una semplice Vai Ok Fammi anche una pompa Magari Vai Spompa Ma quindi se Vitellone 97 online Godo Bello su sangue me lo godo Barba Vai Ok Ma si Ma si C'avemo setta i scheggi così Fioi Ok Perfetto Buono Ciao Grazie 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 Che figo che so adesso Fioi Buono Adesso Mappa Ci spariamo la prima missione Vai Voglio vedere la prima missione Vado la sera dura a non nerdarlo sto gioco raga Fuori dai coglioni fuori dai coglioni Fuori dai coglioni Quattro occhi di merda Vai Bella Sarà contenta l'Ener Per queste Queste cose Che si parla che ho buttato su tutti i lampioni della luce L'Ener è contenta Molto bene Andiamo a fare la prima missione Fioi 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 Ok io devo fare un tutorial su come guidare ragazzi Io chiedo scusa ma sono un gondolare ragazzi Purtroppo la mia natura gondolare è a Los Santos C'è qualcosa da fare Ok Merda Meno male che non c'è un malus per ogni incidente Perché qua si era già in rosso Ma questo è vero di stia Far casino Spaccare tutto Ammazzare la gente così Vediamo questa prima missione ragazzi Vai tirala tirala Ok Vediamo questa luce qua se non vedo una cappea Boh E siamo arrivati Ok devo andare di qua penso Morca puttana Vai Buona Dai che ci siamo Adesso il look nuovo ragazzi qua domino Pappapero Buono E' bello di vederti Molto bello Abbracciami E' bello di vederti E' bello di te Che tu Che bello lo che faccio è che le persone mi dicono che fare e non faccio e nulla cambia lo che ti dicevo mio chico ti dicevo mi lo che vuoi e io vorrei molto attraverso perché non poter essere oggi è ripossessi veicoli che i freddi hanno compratto in interesse di risposta ma in avanti insieme non ho mai avuto un figlio necchio ma se lo so ma se lo so voglio essere proprio come te no 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 ahahahahah dopo ragazzi spetta anche un commento per capire se volete che non starei zitto in mezzo a te cose dovevo parlare aspetto commentini eh Mi piace questo gioco perché è sempre un linguaggio meraviglioso, un linguaggio comandante. Non è che devo spagare il culo a un po' di gente. Sì, sono dipendente del mese, allora fottiti, mangiami il pacco, mangiami il pacco tesoro. Vespucci Beach, raggiungi Vespucci Beach. No, no, aspetta, voglio una macchina più figa a sto punto. Voglio questa ragazzi. Sento che guido io. Andiamo a Vespucci Beach. Quindi ragazzi aspetta un commento per capire se volete nelle scene così di non cioccolare o se l'avevo invece servito per farlo ascoltare anche a voi. Con tanta meraviglia. E io vi do quelle macchine forti, altro che. Io sono un professionista. E nella benigolatela sempre. Vai comandone, questa macchina mi gasta qui. Vai 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 vai. Tirarla al massimo su to' mole. C'è un po' di parla. E si salva. Si salva l'incorso del comandone. tutto bene e siamo scendiamo da questa macchina e andiamo a spaccare il culo un po' di gente scavarchiamo questo è un bel quartiere ve lo consiglio ragazzi non ho rotto i baroni a strozzo vogliono prendere la moto sto capendo pochissimo fio perché è totalmente gasato ma fio non sto capendo un caldo la mia fichetta non è lì controlla il garage vediamo non ci sta un cazzo vediamo qua bello vediamo qua molto bene bello bello ok vai che iniziamo a massacrare un po' di gente vai la John Rambo John Rambo mode perché ho solo la John Rambo mode merda ciao tesoro nooo puttana miseria sono un coglione sono una pippa andiamo con più calma ragazzi ok cerchiamo di ragionarla un attimo perché sennò vai ragioniamola che sennò ne coppa dai e crepa perfetto qua c'era un altro dai vieni fuori eccolo qua assassinato veloce 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 becazzo nooo ma dio cristo sono un coglione sono un coglione non mi faccio prendere troppo della foga cazzo calma relax 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 come andiamo se la prima missione faccio già così cagare sono da l'uno buono ce n'è un altro assassinato ciao e sei qua a sto stronzo spariamo a scuola questo merdoso ciao ok qua ce ne sono ragazzi vai si comincia subito col botto eh e crepa ciao anche di qua ciao baby uno anche di là ciao baby dobbiamo coprirci ragazzi sennò sono dolore c'è altra gente vai spari che spari che spari che un po grande c'è altra gente non c'è altra gente non c'è altra gente non c'è altra gente non c'è altra gente eh devo un po' ambientarmi ragazzi che io scopo nessuno gameplay ancora da culo ma devo ambientarmi ok 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 scampiamo scampiamo bella fai macchina perfetto per aumentare la scala del radar ok perfetto è il mio orientamento di merda dai come non 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 dai andiamo a prenderlo cazzo l'avevamo già perso molto bene ma le missioni partono già bene e la prima volta che commento e gioco in gta è un gioco difficile ragazzi devo stare a commentare e giocare è facile giocare devo stare attento a quello che dicono a radar che sguardo so un po' un benessian per me devo proprio guidar non so po' dribbiamo gli alberi dribbiamo tutto tutto bene guardate che ci sono tutti tutorial su come distruggere la macchina ragazzi tutorial comendiani dai dai andiamo per di qua andiamo paralleli noccio ok giriamo subito a sinistra dobbiamo prendere sto fio della mignotta eccoci qua vai vai pomidore sovi te adesso vai di la eccolo qua ragazzi eccolo qua butti lo so butti lo so butti lo so sali sulla moto sali sulla moto muoviti come no vea e adesso andiamo raggiunti l'auto lavaggio e andiamo in moto fiore qui uff l'altra mano da solo una pippa guidare ma ne diamo anche nel verso giusto guidato la prima alba adesso gta raga e godiamo e godiamo e godiamo alla grande veloce veloce occio molto bene intanto che la prima missione sono morto due volte veramente vaneggi assurdi cazzo ho guidato la moto gp per anni vado a guidare bene sta moto anche se non è una moto da corsa però perché mancano 600 metri che forse che affasso molto bene ci siamo già 34 minuti di gameplay neanche me ne rendo conto ragazzi ok se mori mai siamo arrivati buono e e va a favore missione completata bella medaglia d'argento vedete mia medaglia d'oro non c'ha però mai chiaramente perfetto la possiamo salvare salvataggio rapido perfetto ragazzi buono raga allora questo primo diciamo primo gameplay completato ragazzi devo ancora migliorare tanto quindi sia nei commenti che nel capire se nelle scene dove parlano devo stare zitto a parlare aspetto i vostri consigli ragazzi voi lo sapete io ascolto tantissimo voi uscite tutto quindi devo cercare di fare un gameplay il più possibile decente quindi aspetto commenti pareri consigli e quant'altro raga un saluto dal commentone veneziano GTA è una bomba ciao come in da veneziano come in da veneziano lo Youtuber's Italiano come in da veneziano come in da veneziano lo Youtuber's Italiano Grazie a tutti.